Benvenuti, benvenuti alla ripresa stagionale di Stampa e Vangelo. Siamo nella nostra location abituale con un angelo custode alle nostre spalle. So che bisogna adesso fare dei meccanismi nuovi per riuscire a vedere Stampa e Vangelo, quindi non ho tecnicamente chiaro quali siano le novità, però segnalate agli amici che la diretta è cominciata, perché da quello che ho capito i meccanismi attualmente sono diversi. Vi vedo comunque già in moltissimi, dovete invitare, mi pare di aver capito, le persone a partecipare alla diretta. Saluto Antonella Bagno, Giovanni Fiori, Sara Deodati, i primi a essersi connessi, ad aver superato queste novità di ostacolo che Facebook ha messo alla nostra attività. Sapete anche io come algoritmo sono stato estremamente abbassato, cioè la leva del volume ai miei interventi su Facebook è stata abbassata, ma noi ce la capiamo sempre e comunque facendo rete tra noi, come sempre. Ci aiutiamo facendo rete tra noi, quindi se potete taggate le persone, inviate loro la notizia che la diretta è cominciata, soprattutto condividete la diretta sul vostro profilo, perché con questo meccanismo e inviando anche, come vedo che ha fatto Antonella Bagno, il link tramite i vostri contatti Whatsapp, le persone riescono a sapere che la diretta è cominciata. Carla Stefanini, buongiorno, ciao Paul Freeman, ciao Silvia Lodà, ciao Daniela Tascini, Roberto Mura, Roberto Lauri, Patrizia Selvaggi, è bello perché stiamo incontrando, adesso sto rivedendo i nomi, Cristina Zaccanti, Germana Biagioni, di tantissimi che abbiamo visto, ci siamo incontrati in queste due giorni di Camaldoli, la festa nazionale della Croce Quotidiana, terza festa nazionale della Croce, che è stato un momento di grande gioia per tutti noi, centinaia e centinaia di militanti del popolo e della famiglia, che si sono ritrovati per la festa annuale, che segna l'avvio delle nostre attività sul territorio, credo sia stata davvero una grande occasione, in una cornice strepitosamente bella, quale è stata quella dell'eremo di Camaldoli, del castello di Poppi, dei luoghi dove abbiamo dormito, insomma, davvero, credo un'esperienza che ci ha fatto sentire tutti i popolo, quale siamo, insomma, in tutta evidenza, guardavo le scene, perché contemporaneamente sui giornali oggi, siamo a Stampevangelo, sui giornali oggi ci sono le cronache delle varie altre iniziative, c'era la festa di Fratelli d'Italia, che ora deve rifarsi il look, vuole fare un... Giorgia Meloni ha annunciato un nuovo partito, la notizia la prendo da Libero in questo caso, un nuovo partito conservatore e sovranista, questa è la definizione, con Toti, che sempre sul Libero, fa sapere di essere disposto ad entrare in questo nuovo soggetto politico, e questa era la realtà di Atreio, poi c'era la realtà dell'incontro di Forza Italia, a Fiuggi, dove è un re di vivo, è un po' triste, diciamoci la verità, Silvio Berlusconi ha riannunciato la sua candidatura all'europea, però in tutte le immagini che avete visto di questi contesti, non c'era, diciamo, né la bellezza di Poppi, di Camaldoli, del Castello, dell'Eremo, di quei luoghi straordinari che abbiamo incontrato, Silvia Lucchetti dice, io non c'ero e si è persa qualcosa, molto male che Silvia Lucchetti non sia venuta, scherzo, ovviamente alcuni non hanno potuto, ma si è perso qualcosa chi non è venuto, grazie a Dio c'è una registrazione integrale dei nostri lavori che potete eseguire, la prima parte è già stata pubblicata da Radio Radicale, la seconda dovrebbe essere pubblicata proprio oggi, per cui tutte le dense, dense ore di lavoro che abbiamo svolto insieme sono, come dire, cementate in un documento che resterà in secula seculorum, diciamo. Siamo a Stampe Vangelo, come sempre partiamo dal Vangelo, che credo sia oggi particolarmente illuminante, siamo nel Vangelo di Luca, siamo nel Vangelo di Luca, ecco, ricordo tutti, Saradio Dati dà la indicazione giusta, bisogna taggare le persone nei commenti e vi chiedo di fare la condivisione della diretta sul vostro profilo e anche di utilizzare il link della diretta, ho visto Antonella Bagno mandarlo, per mandarlo ai vostri contatti Whatsapp. Noi salutiamo ovviamente Nino Frulli, il primo, è arrivato il primo a scrivermi imbecille, vi ho spiegato ieri durante la festa nazionale della Croce in cui ho annunciato il ritorno a Stampe Vangelo, la ragione per cui io non censuro mai gli insulti, ho pubblicato ieri sera, che era il 23 settembre, la fotografia di Aldo Moro, nato il 23 settembre, che la sua testimonianza ideale, culturale, religiosa e politica l'ha resa fino a morirci ucciso con i colpi di mitraglietta Scorpion, io non mi faccio certamente intimidire da uno scemo che insulta, insomma, quindi la libertà è pedagogica e la libertà è anche quella di venire a seguire una diretta che si chiama Stampe Vangelo per insultare. Poi magari ascolterà il Vangelo e questo è un bene prezioso anche per colui che è venuto invece con l'intenzione di insultare. E allora il Vangelo, peraltro, è perfetto per chi viene con questa intenzione perché è il Vangelo di Luca di oggi, siamo nell'ottavo capitolo, i versetti sono solo tre, dal 16 al 18, ma guardate quanta densità in questo Vangelo. In quel tempo Gesù disse alla folla nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la pone sotto un letto. La pone invece su un lampadario perché chi entra veda la luce. Non c'è nulla di nascosto che non debba essere manifestato, nulla di segreto, che non debba essere conosciuto e venire in piena luce. Fate attenzione dunque a come ascoltarla perché a chi ha sarà dato, ma a chi non ha sarà tolto anche ciò che crede di avere. È la parola del Signore di oggi, credo che sia perfetta per dare un saluto a chi pensa di venire qui per denigrare, diciamo, ecco. Noi facciamo questo, prendiamo la nostra lampada e ci giochiamo tutto. Ci mettiamo tutto, la mettiamo lì, dove deve stare, sul lampadario, la verità, sul lampadario, evidente a tutti, la testimoniamo. Non facciamo questo perché siamo buoni. Facciamo questo perché se non facessimo questo ci sentiremmo incapaci di adempiere a una promessa, a un ordine, vorrei anche dire, che ci dice se non facessimo questo rischieremmo di perdere tutto, di perdere certamente noi stessi. Va bene, allora io oggi ho avviato questa puntata preparandovi a quello che accadrà stasera in televisione perché dovete sapere che oggi non comincia solo Stampe e Vangelo, importantissima trasmissione della PDF TV ma inizia anche su Canale 5 quello che sarà il programma con il maggiore ascolto in assoluto della stagione autunnale della televisione. Il numero 1 top 1 il programma più ascolti milioni e milioni di persone che lo seguiranno in prevalenza giovani si chiama Grande Fratello VIP l'ultima edizione ha fatto ascolti pazzeschi ed è stata anche definita l'edizione del trash assoluto questa stagione sono voluti andare ancora oltre il lancio del Grande Fratello VIP l'hanno fatto utilizzando le interviste televisive nello stesso canale le dichiarazioni di una mamma che è Lori del Santo che ha conservato la notizia per il lancio del Grande Fratello VIP che il figlio si era suicidato e quindi il lancio cioè l'unica persona che conoscete di questo Grande Fratello VIP che è fatto senza VIP lo hanno costruito sui giornali parlando e facendo interviste in cui questa signora che è il figlio che si è suicidato un altro ha tre figli uno è morto perché è caduto da un grattacielo da una finestra aperta di un grattacielo il secondo che è suicidato qualche settimana fa il terzo non gli parla tutto questo è stato spiattellato sui giornali per fare il lancio del Grande Fratello VIP e ovviamente la signora col figlio che si è appena suicidato va a fare il Grande Fratello VIP quando io vedo queste cose nel sistema mediatico nella televisione generalista quella che poi ci fa la predica perché sentiamo la televisione che dice lo diranno anche oggi gli illustri opinionisti del Grande Fratello VIP che non bisogna trascendere non bisogna e si faranno i finti proclami di correttezza e quello verrà escluso dalla casa perché ha detto una parola troppo forte però nel frattempo il lancio l'hanno fatto su un ragazzo suicidato vi rendete conto ma vi rendete conto che l'orrore è ormai risiede in quelli che fanno la predica sull'orrore in quelli che dicono che i social sono trash ah che schifo i social che bella la tv generalista eccola qua la tv generalista ah che schifo i nostri giovani e certo gli dai questo come mangime l'orrore che oggi avete leggendo qualsiasi quotidiano aprite qualsiasi prima pagina c'è la notizia di una coppia anziana con figlio disabile rapinata in casa rapinata in casa col figlio disabile ferito picchiati loro come si fa a non avere questo tipo di sensazione di angoscia dell'orrore che abbiamo tutto intorno Moizio Belpietro fa l'ennesima prima pagina contro il Papa l'ennesima sarà la cinquantesima prima pagina da agosto siamo arrivati a fine settembre e tutti i giorni l'unico obiettivo è colpire il Papa ma non c'è più rispetto per niente neanche per due anziani con un figlio disabile neanche per un ragazzo che si suicida neanche per il Papa ma cos'è successo che ci sta capitando abbiamo detto a Camaldoli il popolo e la famiglia ha fatto una riflessione dicendo vogliamo tornare a insegnare il fascino della complessità la bellezza che abbiamo davanti agli occhi che è straordinaria di questo nostro paese io ho fatto l'ultima seduta di Camaldoli della festa nazionale guardando in questo castello medievale che aveva come prospettiva dopo un popolo di centinaia e centinaia di persone in fondo delle finestre a a a forma di ogiva che mi davano lo sguardo sul verde sterminato del Casentino dei luoghi nascosti che pochi conoscono di una bellezza straordinaria che è andato all'eremo di Camaldoli dove poi abbiamo fatto un incontro in biblioteca dove è stato scritto il codice di Camaldoli sa che per arrivare all'eremo bisogna fare una strada complessa fatta di tante tante curve ma lì dall'anno 1021 San Romualdo ha costruito una comunità che è luce per l'umanità come l'è stato quando è stato scritto il codice nel 1943 e così è oggi a noi ma per arrivare lì il percorso è la complessità se il percorso invece diventa l'orrore della monnezza del trash dello slogan della carne da cannone siamo tutti e solo carne da cannone tutti e solo prodotto persino da morti suicidi ragazzi e allora ragazzi davvero siamo in un tempo di grande difficoltà Daniela Scavonini dice bene che quelle finestre erano bifore bravissima Ilaria Giurlani dice possibile che l'unico che si accorge e denuncia queste oscenità sia tu non sono solo io siete voi e state denunciando insieme a me sono certo che Guelfo Guelfi Fabio Freddi Flavia Lanci Francesca Ragione Claudio Dino Lamattina tutti quelli che hanno visto Ottorino Baronio Don Ottorino Baronio che saluto con grande affetto tutti quelli che in questo momento stanno guardando Stampe Vangelo alla luce di quello che il Vangelo ci ha detto mettete la lampada dove deve stare ben visibile proclamate e testimoniate la verità non fate i cacasotto vergognosi che nascondono perché se non avete il coraggio vi toglieranno anche quello che non avete ce lo dice il Vangelo tre versetti lo leggiamo per questo perché così Monica Vitale Letizia Disidoro Luigia Vianiello Simonetta Smacchia tutte le persone che sono in questo momento connesse recuperano la lettura del Vangelo l'odierno magari non tutti vanno a messa tutti i giorni una ragione in più per essere fuori testimoni della bellezza e della verità che si può contrapporre all'orrore dello schifo della monnezza del fare soldi sulla pelle di un ragazzo che si suicida attraverso la madre che va a partecipare a un programma orrendo come il grande fratello Vip ci rendiamo conto Sabina Bosu che è arrivata per le vie e i meandri complessi di internet dice il popolo e la famiglia è unito e compatto a testugine per combattere Alberto Livieri buongiorno a tutti i presenti insieme al miglior bentornato ai camaldolesi Danilo Bassanna abbiamo ricevuto una luce e non possiamo nascondere la verità Antonietta De Jeso quanto mi sei mancato Mario quanti mi sei mancato voi la festa che abbiamo fatto in questi due giorni ci ha reso evidente quanto ci siamo mancati quanto quanta gioia c'è nell'incontro tra noi quanta era sorridente ogni fotografia che è stata scattata a Camaldoli Laura Cantarella dice giustamente l'offuscamento della coscienza porta a tutto questo io ho detto in molte occasioni in questi mesi che il sonno della ragione genera mostri e imbecilli non volevo limitarmi alla citazione di Goia il sonno della ragione genera mostri e imbecilli salutiamo Vittoria Polacci Massimo Pistoia ho visto arrivare la Pongi che adesso ci deve coordinare tutto il palinsesso della PDF ricordo che oggi con questa trasmissione rinasce il palinsesso autunnale della PDF ogni mattina troverete Stampe Vangelo e poi tutti i programmi quelli che già c'erano altri che vorrete proporre tramite il rapporto con Emanuela Bongiluppi potete dare l'indicazione al nostro coordinatore editoriale insieme a Francesca Centofanti l'indicazione dell'orario a cui volete farlo del tema che volete trattare l'unica cosa che chiediamo che chiedo è la serietà nel farlo se decidete di farlo con la cadenza che vi impegnate a sostenere saluto Alicia Cortelano che dice che bello rivederti Stefano Gardini tanta gioia nel rivederci riabbracciarci Milani Elena dice se mi morese un figlio ne morirei altro che grande fratello hai ragione saluto Carla Camerani che bella festa che bella tu con i tuoi sei figli Carla che bella tu fammi salutare tuo marito altra persona coraggiosa col marito di Carla io ho incontrato Steve Bannon c'è anche una fotografia che forse conoscete ma non faccio la corsa a voler diventare il membro di The Movement per chiedere a Steve Bannon che è un mio amico lo vedo in America non mi interessa mi interessa la sua riflessione è un'idea che Steve Bannon è un cattolico ha un'idea diversa da me su alcune cose ma mi interessa incontrarmi incrociarlo parlarci e costruire un serbatoio di idee che credo possa essere utile a questo paese se programmiamo se programmiamo la verità oggi tra i quotidiani troviamo un'altra notizia che il governo giallo-verde si prepara apertura del messaggero l'unico giornale che fa un'apertura decente perché gli altri aprono sulla maschera di Berlusconi o la verità apre contro il Papa insomma cose abbastanza folli il messaggero fa un'apertura in cui dice il governo si appresta a tagliare due miliardi sul fondo sanitario e vanno a rischio delle terapie dai ragazzi vanno a rischio delle terapie è un problema è un problema è un problema grosso vedi lo dico a Simonetta smacchia che dice no Steve Bannon no io ragazzi io parlo con tutti con le persone intelligenti soprattutto poi Steve Bannon ha l'idea che in questo momento Salvini sia la salvezza e io lo contesto su questo ma lo contesto perché poi Salvini e Di Maio per trovare i soldi per fare quella follia che si chiama reddito di cittadinanza mi tagliano due miliardi dal fondo sanitario e mettono a crisi le questioni centrali della vita delle persone che a me interessano più di tutte il popolo e la famiglia ha chiuso la festa di Camaldoli con un documento politico e nel documento politico ha indicato il testo di una proposta di legge di iniziativa popolare sul reddito di maternità mille euro al mese alle mamme dopo il quarto figlio mille euro vitalizi per le mamme che non lavorano che si dedicano dunque totalmente alla famiglia e su questo noi raccoglieremo le firme per strada faremo una legge iniziativa popolare raccoglieremo le firme e spiegheremo come perché siamo un movimento politico abbiamo un'alternativa in testa alla proposta reddito di cittadinanza più flat tax per far ripartire l'Italia per noi l'Italia deve ripartire riparte se torna a fare figli e se investe sulla famiglia questo è il popolo della famiglia Gianni Fiori ieri nel suo intervento ha fatto la contabilità e ha detto se è così l'Italia muore e in effetti noi perdiamo 200.000 anzi 300.000 italiani perché 100.000 poi sono nati stranieri ogni anno allora se noi abbiamo questo esito se noi abbiamo questo problema enorme perché vuol dire la vita o la morte di un paese straordinario come l'Italia se ne perdi 300.000 all'anno in pochi anni ne perdi milioni e dunque muore il popolo italiano io non accetto un programma di governo che parte da reddito di cittadinanza e pensa al porto d'armi per far contento dice Carla Camerani giustamente il produttore d'armi di turno a legge nuova sulla cosiddetta legittima difesa che io tutelo secondo me non può essere perseguito quell'anziano che è stato colpito in casa se avesse sparato gli dico che se aveva una pistola era molto più in pericolo e infatti ha detto intelligentemente dall'ospedale non me la faccio una pistola perché se lui davanti a quelle bestie che non hanno avuto pietà neanche del figlio disabile avesse tirato fuori una pistola da quella rapina nasceva una tragedia perché fra l'anziano e una banda di criminali che ti entra in casa l'uso della pistola che può fare l'anziano è estremamente minimale come arma di deterrenza rispetto alla cattiveria che può mettere una banda di criminali che è pronta a ferire persino un ragazzo disabile nel conflitto tra brave persone e criminali allora attenzione alle priorità che stanno costruendo attenzione perché le stanno costruendo al contrario tutte al contrario invece di fare quello che c'è bisogno di fare fanno propaganda elettorale in vista delle elezioni europee cioè leggi che vanno bene a tantissime persone reddito di cittadinanza diamo 780 euro a milioni di persone flat tax facciamo contenta milioni di persone in pensione tutti con 400 a 59 anni con 41 anni di contributi milioni di persone contente scassiamo completamente i conti tanto poi l'importante è prendere i voti il 26 maggio con questo meccanismo siamo impazziti siamo impazziti poi dopo devono recuperare i soldi come dice bene Anna Ciappa tagliano le spese alla sanità ed è la dimostrazione che della sofferenza della gente non gliene frega niente grande attenzione vi prego tutto ciò che abbiamo detto a Camaldoli mettiamolo a sistema sono stati fatti dei interventi precisissimi densi su tanti temi trasporti scuola mobilità ambiente rifiuti economia tantissimi materiali messaggi meravigliosi dall'arcivescovo di Trieste all'arcivescovo di Bologna che pubblicheremo tutti sulla croce un richiamo a chi c'era e a chi non c'era abbiamo fatto un abbonamento alla croce in due giorni uno semestrale www.lacrocequotidiano.it slash abbonarsi trattino ora e vi andate ad abbonare alla croce perché è utile perché ci troverete gli interventi di Camaldoli perché ci troverete ogni giorno l'elaborazione delle cose che diciamo tutti insieme come popolo che abbiamo detto per esempio a Camaldoli e che continueremo a dire giorno dopo giorno anche attraverso la pdf tv in più trovate anche il palinsesto della pdf tv saluto alessandra trigila che è proprio stata autrice di un bellissimo intervento sulla scuola gli ricordo di mandare il suo intervento alla croce quotidiano che faccio la gmail.com affinché tutti possano leggere le sue idee sistematizzate e lo ricordo chi va sulla croce finisce nell'assegna e stampa del governo della conferenza episcopale italiana della santa sede il motivo per cui teniamo in piedi un organo come la croce pur costandoci molto e avendo una serie di fatiche farlo tutti i giorni è una cosa molto complessa lo facciamo perché con questo strumento le nostre idee vengono trasferite diciamo al mondo di sopra saluto Valentina Baldacci che qui si firma Tina Bald e tutti gli amici del Friuli Venezia Giulia Germana Biagioni la grande Mary Rossi non può essere che militanti e dirigenti non leggano la croce e non siano abbonati molti non sono neanche tesserati quindi fate pure il tesseramento ma si fa tutto tramite lo stesso marketplace saluto Paolo Venturi buongiorno grande Marione sono solo grosso vi chiedo per favore di fare il mi piace che state facendo vi ringrazio e il condividi della diretta sul vostro profilo perché ancora un paio di cose prima della fine voglio vorrei dirvele e riguardano evidentemente i nostri impegni futuri per coloro in particolare che non c'erano a Camaldoli in maniera che tutto il popolo e la famiglia tra la partecipazione a Camaldoli e magari l'ascolto di questa diretta sappia insomma qual è il calendario delle nostre iniziative è arrivata anche Francesca Centofanti la nostra coordinatrice insieme a Mionara Congeluppi e Lauteri di questa trasmissione è del palinsesto di BDF TV Antonio Barbuto Gasperina Anna Ligiato Giancarlo Azzeni allora cosa succede da ora in poi i territori stanno elaborando le proposte di partecipazione con loro dirigenti al coordinamento nazionale che sarà composto da 220 persone che sarà ufficializzato alla prossima assemblea nazionale quando la faremo la prossima assemblea nazionale la faremo mercoledì 17 ottobre a Roma perché mercoledì che è un giorno feriale non perché volevamo renderla difficile ma perché mercoledì 17 ottobre saremo in piazza San Pietro all'udienza del Papa poi una piccola delegazione del popolo della famiglia avrà un incontro con Francesco quindi il 17 ottobre sarà la giornata in cui ufficialmente noi vareremo tramite l'organo politico che noi abbiamo che è l'assemblea nazionale la legittimazione dei 220 dirigenti provenienti dai territori indicati dai territori che verranno poi a coordinare e aiutare l'attività del nazionale per in particolare seguire le attività territoriali necessarie agli obiettivi futuri che abbiamo dobbiamo costituire i circoli chiunque può costituire un circolo basta avere cinque iscritti al popolo e alla famiglia avere il proprio circolo sul proprio territorio queste indicazioni una volta costituite nella forma che volete vanno consegnate al nostro coordinatore nazionale Nicola Di Matteo che è responsabile di questa attività che ovviamente coordina e dà il bollino politico di legittimità ai circoli del territorio si fanno anche molti incontri c'è Mirko De Carli che sta girando ed è ovviamente un dirigente prezioso per il lavoro che sta compiendo di raccordo anche da tutte le varie realtà vi ricordo Giovanni Marco Tuglio che è il referente per il quotidiano La Croce vi ricordo Fabio Torriero che sta facendo un lavoro straordinario di formazione e comunicazione insieme al gruppo che fece anche parte della famosa Commissione Programma vi ricordate Giuseppe Brienza Paolo Bora Iuto insomma i nostri intellettuali e abbiamo poi anche sul sud Raffaella Di Nolfi che sta facendo un lavoro straordinario in particolare in un territorio complesso come la Campania questo gruppo dirigente nazionale sarà coadiuvato da 220 membri del coordinamento nazionale e che deve fare tutto questo lavoro di dirigenti diciamo così deve fare sì che facciamo il partito politico dobbiamo essere presenti alle elezioni quali sono le elezioni sono quattro elezioni regionali in inverno pare il 10 febbraio dunque dovremo raccogliere le firme a Natale precisamente in Abruzzo Basilicata Piemonte Abruzzo Basilicata Piemonte Sardegna in queste quattro regioni Abruzzo Basilicata Piemonte Sardegna si fanno le regionali con ogni probabilità il 10 febbraio poi abbiamo le amministrative cioè comunali che probabilmente si faranno a giugno di mezzo c'è l'appuntamento con le elezioni europee 26 maggio 2019 fondamentali per il popolo e la famiglia bisogna raccogliere 150.000 firme sul territorio dunque la festa nazionale di Camaldoli cosa ha determinato cosa ha deciso ha deciso le cose che vi ho elencato sottoponendole dunque all'approvazione politica dell'assemblea nazionale a cui tutti siete invitati tutti potete partecipare il 17 così come potete venire in piazza da Papa Francesco il 17 di ottobre mercoledì dopodiché parterà una fase in cui costruiremo le liste elettorali per le elezioni europee e per le regionali e poi cominceremo a raccogliere le firme accanto alle firme che raccogliamo per le liste ci sarà anche la raccolta firme per la proposta di legge e di iniziativa popolare sul reddito di maternità i cattolici i cristiani cristianamente ispirati tornano in campo con un soggetto politico che fa politica cioè proposta programmatica per cambiare il paese e organizzazione strutturale per vedere di far crescere quel consenso che oggi è di 220.000 persone raccolto il 4 di marzo sconsiglio a tutti di attivarsi ancora nella polemica o polemichetta diciamo nell'orto interno lasciate perdere è completamente inutile è totalmente inutile dannoso le cose nostre piccoline interessano a mille persone duemila persone noi dobbiamo parlare a milioni di persone e andiamo a parlare a milioni di persone se riusciamo a fare quello che abbiamo fatto oggi denunciare alcuni meccanismi folli del sistema mediatico a questo serve stampa e vangelo metto insieme una pagina di vangelo di tre versetti metto accanto le prime pagine dei giornali le prime serate televisive quello che accade nel sistema mediatico metto insieme questo sistema e vedo bellezza e orrore e allora quello che vedo e che noi vediamo possiamo farlo vedere fuori di qua bellezza orrore profondità complessità monnezza superficialità slogan governo populista degli annunci fatti concreti che cambiano la vita questo è ciò che dobbiamo fare non stare a discutere delle organizzazioni ma quella quell'associazione è nata la civilitas è nata la tutta robetta robetta da cento persone noi dobbiamo costruire cose da milioni di persone partendo dai duecentoventimila che eravamo il quattro marzo con la forza determinata di un gruppo che a Cavaldoli nel 1943 era fatto da 50 persone in 15 poi scrissero il codice stavolta siamo centinaia e centinaia da lì nacque un sistema perfetto la costituzione repubblicana è un soggetto politico autonomo dei cattolici che guidò il paese per 33 anni ininterrotti alla presidenza del consiglio e lo salvò dalla deriva comunista noi dobbiamo fare qualcosa di più adeguato alle nostre forze non siamo Moro, Lapira Andreotti De Gasperi Sturzo siamo dei poveretti con le nostre piccole forze però possiamo fare tanto se decidiamo di fare quello che i tre versetti del Vangelo ci hanno detto oggi prendiamo la lampada e la mettiamo dove deve stare la mettiamo dove deve stare sul lampadario a illuminare una notte buia che è quella in cui siamo precipitati spero che sia chiaro tutto il resto è tutta molte stupidaggie e inutile occuparsene dobbiamo fare questo in più noi abbiamo scelto la via più complicata perché ovviamente fare il comitatino da otto persone o l'associazione cina da cento è più semplice noi abbiamo fatto una cosa complicatissima che è radicarci sui territori fare una piattaforma programmatica raccogliere consensi discuterla quello che è d'accordo quello che non è d'accordo proporla raccogliere centinaia di migliaia di firme proporla le elezioni dover raccogliere i consensi mille volte più complicato possiamo fare pure noi il comitato popolo della famiglia non abbiamo fatto il comitato abbiamo fatto un movimento politico però grazie a questo siamo centinaia di migliaia e possiamo puntare a essere mettendo se non leggiamo il Vangelo tutti i giorni non ce la facciamo mettendo la lampada sul lampadario convinti che sia questo quello che dobbiamo fare altrimenti perderemo anche quello che non abbiamo se questa cosa ci convince se l'incontro con Cristo non è una stupidaggine non è una favoletta non è una cosa che ci raccontiamo come fosse uno xanax per stare meglio di fronte all'idea della morte se non è questo ma è un incontro vero vivo storico allora noi dobbiamo fare di conseguenza ciò che stiamo facendo e come dice Carla Camerani viva il Papa viva coloro che vengono massacrati dai media adesso tocca al povero Papa Francesco tutti i giorni si deve prendere una prima pagina di un giornalista ateo che ha fatto un giornale che ha come sottotitolo qui test veritas cioè il motto di Ponzio Pilato che manda a crocifissione nostro Signore Gesù Cristo hanno avuto il coraggio di spiegarci che quella era il giornale che incarnava i nostri valori e adesso si deve vergognare un po' qualcuno a scrivere su quel giornale visto che tutti i giorni si trova un giornale contro il Papa e magari qualcuno ebbe pure il coraggio di dire che contro il Papa c'era il popolo e la famiglia ecco tanto per dirne una vabbè la discussione ci sarà la croce sarà evidentemente fortemente a difesa non della figura di Papa Bergoglio della Chiesa e in tutta evidenza cosa ci può essere se non la difesa della Chiesa da parte di chi è un cattolico che è anche solo cristianamente ispirato ma vorrei dire anche di un laico che lo vede da fuori ma come si fa a non voler difendere da questi attacchi continui continui senza soluzioni di continuità cioè la Chiesa per il bene che fa questo Paese questa almeno è l'idea che noi portiamo avanti come popolo della famiglia Andrea Emiliano dice credo che l'Italia possa risorgere tutto dipende da noi Saimir Smali il popolo della famiglia difende la Chiesa Jacopo Pioli ciao Mario ti ascolterò indifferito anche perché poi io ero in Cina e saluto Jacopo Pioli saluto tutti quelli che ci ascoltano da ovunque perché è la cosa bella di Stampa e Vangelo che ha un ascolto disseminato come si dice in tutti i territori in tutti i territori anche quelli dove è molto difficile arrivare per esempio la Cina vi ringrazio molto per la partecipazione a Camaldoli vi ringrazio molto per le tantissime testimonianze d'affetto vi ringrazio molto anche Silvia che capisce e che capisce che è l'ennesimo weekend che non passo in famiglia nonostante lei tra meno di un mese partorirà io anche il prossimo weekend sarò fuori perché sarò ad Aglie anzi vi annuncio la presenza in terra piemontese lavoriamo in vista delle regionali ad Aglie alle ore 16 vi raccomando anche il prossimo weekend dunque la povera Silvia se lo dovrà fare da sola speriamo che non nasca proprio quel giorno ma quello che voglio dirvi è che c'è un ringraziamento forte da parte della mia famiglia per l'affetto con cui la circondate nonostante sia una famiglia ferita una famiglia sbagliata una famiglia con tutti i limiti che conoscete e conosciamo è però un luogo dove c'è sempre un angelo custode a proteggere eccolo qua e dunque spero che questo angelo sia un angelo che poi protegge tutta la famiglia del popolo della famiglia ecco Cristina Zaccanti piemontese ti aspettiamo a braccia aperte saluto anche Andrea Brenna strepitoso dirigente del PDF di Como che ho avuto modo di incontrare per la prima volta a Varese pochi giorni fa pensate un po' Alessandro Margiotta un saluto ad Alberto Leo bravissimo che ricorda ciò che è stato sottolineato da Fabio Torriero Massimiliano Mingioni Federico Pieroni Priscavegni la bellissima Priscavegni che ringrazio e saluto Maria Pia di Girolamo allora siete davvero tanti vi chiedo per favore di far percepire questa nostra diretta il ritorno di Stampe Vangelo a più persone possibili di farlo percepire dunque con la condivisione della diretta col mi piace e magari poi dando il link in maniera che insomma i nostri appuntamenti siano chiari siano noti a tutto il mondo del popolo la famiglia sia noto anche il nostro orrore per quello che vi ha fatto stasera da Canale 5 sappiate io ci lavoro a Canale 5 mi vedete spesso in televisione a Canale 5 quindi dire queste cose non è gratis però bisogna dirle la lampada se siamo conseguenti prendiamola e mettiamola sul lampadario e non conta quello che perdiamo che se pensiamo che non sto zitto così Canale 5 mi chiama lo stesso io perderò anche quello che non ho mi dice Cristo e se io credo a questo devo essere conseguente a questo questo ci deve riguardare tutti io ieri quando sono tornato ho postato la foto di Aldo Moro nato il 23 settembre è morto perché ha messo la lampada sul lampadario ucciso dai comunisti combattenti e ho scritto voglio un pdf di persone disposte a sacrificare la vita tutto quello che hanno se lo facciamo noi non è il problema di cambiare l'Italia o prendere il potere o le poltrone noi salveremo questo paese dal baratro che è l'obiettivo che abbiamo un obiettivo molto più ambizioso di superare uno sbarramento noi non vogliamo cambiare l'Italia noi vogliamo salvarla noi vogliamo salvarla il popolo la famiglia è nato per salvare l'Italia non per fare tre parlamentari quelli che volevano e avevano scambiato il popolo la famiglia per il luogo dove diventavano parlamentari grazie a Dio sono andati a cercare la soddisfazione alle loro insicurezze in altri lidi chi è qui ha una missione molto chiara molto netta ma deve essere pronto a dire la verità pagandone le conseguenze Maria Di Nolfi va a Canale 5 ma l'avete visto non più di una settimana fa ma se Canale 5 fa un'operazione vergognosa di lancio di un proprio programma top come dicono loro speculando sul suicidio di un ragazzo e mandando la madre nella casa del grande fratello Vip signori io non sto zitto io pago il prezzo che c'è da pagare ma quello che c'è da dire lo dico con grande nettezza ma è possibile che il transesso di queste reti debba essere temptation island temptation island Vip ma davvero l'intrattenimento deve essere costruito solamente su una dimensione non valoriale anzi antitetica alla dimensione valoriale ma davvero è così davvero è così e non possiamo farci nulla davvero dobbiamo solo subirla questa tarantella mediatica giornalistica dei quotidiani oggi il tempo perché prima di venire nella segna stampa mi hanno letto tutti i giornali mi annuncia che la razzia degli scippatori e dei ladri ormai è nelle chiese c'è un pezzo di saggezza popolare che dice non bisogna rubare in chiesa no? è una cosa proprio che ma che fai a rubare in chiesa? ormai è diventato un elemento centrale andiamo a rubare in chiesa tutti i lati si vengono d'accordo per rubare in chiesa più rispetto per niente neanche per un ragazzo suicida neanche per quella madre che dovrebbe essere sofferente no esponiamola al grande fratello Vip nella casa nel tugurio ma no attacchiamo il papa tutti i giorni ma sì andiamo a rubare in chiesa non più niente che incuda un qualche senso di rispetto lo vogliamo sottolineare questo? siamo il popolo della famiglia capace come ha detto Rossano Giorello ieri intervenendo il nostro dirigente di Pinerolo di realizzare l'impossibile perché siamo realisti questo tema del realismo se il realismo rinuncia alla profezia cosa sarebbe il cristianesimo? quelli che mi spiegano sempre c'hanno sempre in bocca sta parola realismo 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 il realismo è che non c'è più la chiesa siamo minoranza di una minoranza persino dentro la chiesa quindi non facciamo niente facciamo un'associazioncina al comitatino la cultura eh sì oppure siamo realisti ma cristiani sapete il cristiano che va al colosseo a farsi mangiare dal leone non è che ci va pensando che il leone non abbia fame il realismo di quel cristiano è sapere bene che il leone ha fame ma essere pronti a dare tutto di noi stessi perché quella lampada come Cristo ci ha ordinato sia sul lampadario e allora il cristiano realista che sa bene che il leone ha fame al colosseo a farsi dilaniare le carni ci va cantando ci va cantando questo è il realismo questo è il realismo del cristiano e se non è questo non è più niente non vale più niente è semplicemente finita spiegatelo a chi vi dice dovete essere realisti col popolo la famiglia non si va da nessuna parte tanto si va a Capaldo si va al castello di Pompi si vedono posti meravigliosi si va ad Aglie non lo sapevo che esisteva Aglie paese di duemilanime hanno preso una sala che dovrebbe portare il 10% del paese dentro speriamo vediamo ma si va anche lì e si va cantando e si va cantando questo è ciò che noi possiamo e credo per certi versi dobbiamo fare un saluto a Marcello Baldini attraverso lui a tutta la segreteria dell'organizzazione del popolo della famiglia che ha reso possibile la festa di Camaldoni grazie ad Alberto Olivieri grazie a Rosa Eleonora degli esposti grazie a Sabina Bosu ovviamente Alberto Leo dice il martire non cerca il martirio ma Tommaso Moro insegna quando arriva si resta coerenti e mai come in questo momento signori o si è disposti a dare tutto o abbiamo perso o abbiamo perso Mauro Turrini dice bene con il sorriso e con la gioia affronteremo le difficoltà infatti per questo dicevo che i cristiani al Colosseo ci andavano cantando ci andavano cantando perché c'è il sorriso e la gioia quella che abbiamo vissuto insieme straordinariamente a Camaldo li saluto anche Anna Cavallo è un attacco alla donna che è con lei che genera la vita Marivisa Marivisa Tessari Flaminia Longobardi che bello Flaminia Catiuscia saluto tutti il marito di Catiuscia il piccolo un abbraccio davvero a tutta la famiglia qui della provincia di Roma insomma in tanti non sono riusciti ad arrivare a Camaldoni ma è bello rincontrarli nelle dirette di Stampe Vangelo noi ci ritroviamo domani alla stessa ora 8 e 45 con la puntata numero 2 della nuova stagione di Stampe Vangelo vi ringrazio vi chiedo un like se vi è piaciuta la puntata quindi un mi piace alla puntata stessa una condivisione sul vostro profilo e di trasmettere a tutti questi 45 minuti che rappresentano diciamo così il calcio d'inizio dopo la festa di Camaldoni della nostra attività autunnale grazie a tutti grazie ad Alessandra Mondelli Ammira D'Angelo Silvia Lodag Gabriella Arenare Mari Mar di parte è arrivata pure per prima alla prima connessione quindi un saluto che è arrivata anche per ultima Patrizia Selvaggi si possono mandare i link anche via Messenger Federico Pieroni che ci dice nel cuore ero lì un abbraccio e buona giornata puntare in alto sempre un abbraccio a Prisca a Daniela Alessandra a tutti un abbraccio da Maria Di Norfi ci troviamo domani con la puntata di Stampe Vangelo di Stampe Vangelo